Fra pochi giorni, se non fra poche settimane, la questione Nepal scomparirà dalle prime pagine dell'attenzione europea, dall'immaginario collettivo, dall'interesse di tutti noi, dalle pagine dei media, come è già successo perché per sentire parlare di Nepal bisogna andare in settima, ottava pagina dei giornali nazionali, forse terza, quarta a livello internazionale perché usano maggiormente la politica internazionale, non parliamo dei mezzi radio televisivi. Però bisogna tenere sempre i fari accesi, non tanto e solo, e questo sarebbe il punto principale per un fatto di solidarietà economica, attenzione io non sto parlando di solidarietà come solidarismo, diciamo 2 euro perché attraverso il telefono 2 euro, 1 euro, sottoscriviamo, diamo una mano, non è questo il punto, il punto è capire cosa sia il Nepal, cosa sia successo in Nepal, la questione sociologica, politica, economica, religiosa e poi come andrà a finire questa questione del Nepal incuneato così com'è tra India e Cina, piccolo staterello del Bhutan che uso sempre per il quoziente di benessere, il principe del Bhutan, il sultano del Bhutan ha inventato il Bil, non il Pil, ma quello del benessere, il misuratore del benessere, per questo il Bhutan. E quindi la catena del Rimala e cosa succederà nel futuro. Voglio farmi aiutare dal senatore Sauro Turroni che è della commissione scientifica nazionale in Antartide e ha girato ed è stato in quei posti e anche lì vicino, per esempio nella DAK, nel vicino al stato del Tibet, che è importante. No, non è lo stato del Tibet, è uno stato, una regione autonoma dell'India. Perfetto, lì incuneata però sopra, l'architetto Claudio Maneri che è presidente della fondazione Butterfly, questa associazione, la fondazione che opera nella solidarietà a livello internazionale e Giuliano Garoia che è trekker, lui dice ma non so se è trekker, viaggiatore, grosso modo viaggiatore, è la traduzione inglese del trekker che arriva da trek, che si faceva proprio in quei villaggi con i buoi, questo è il trekker così come è stato declinato, perché trek è il bue in questo senso. Allora, Nepal oggi, senatore. Nepal oggi è un posto bellissimo di questo pianeta che è stato colpito da un disastro di portata enorme, è come se un miliardo di tonnellate di tritolo fossero scoppiate tutte in una volta. Se pensiamo che il terremoto che ha preoccupato quasi tanto i forlivesi pochi giorni fa, aveva una forza che corrisponde a mille, cioè a una milione di tonnellate di tritolo, cioè un pochino più piccolo della bomba che scatenò, fece morire centomila persone a Hiroshima, noi ci rendiamo conto di qual è stata la forza devastante di questa cosa. Lì ci sono due pezzi della crosta terrestre che si battono uno contro l'altro, la catena imalaiana è stata formata da questo spingere una fetta della crosta contro l'altra fetta della crosta e lì ci sono questi fenomeni enormi, giganteschi, fenomeni giganteschi che in sé potrebbero non dire niente se avvenissero in luoghi deserti, ma lì purtroppo ci abitano moltissime persone in una zona difficilissima da percorrere, in molti posti non ci sono stradi, sono solo sentieri, non ci vanno le macchine, non c'è niente, è un luogo molto povero, la gente ha un'economia di sussistenza da molte parti e far scoppiare un cataclisma di questa portata in un territorio come quello dove anche gli edifici sono vecchi, mal costruiti e così via, ha creato quello che abbiamo visto tutti, cioè migliaia e migliaia di morti, ancora non si sa quanti siano, moltissimi dispersi, insomma una situazione difficilissima e ha fatto perdere, oltre a questo bisogna ricordarlo, un patrimonio storico-artistico imponente, e quindi rendiamoci conto di quello che è successo, c'è un popolo intero che rischia di perdere la propria identità da una parte e la propria possibilità di sopravvivenza dall'altra perché è un paese debole, è un paese povero, è un paese disorganizzato, non è in grado di far fronte a una catastrofe di questo tipo. Oggi come oggi, sono diversi giorni che già l'evento si è verificato, ci sono delle zone che non sono ancora state raggiunte, non si sa che cosa sia successo lì, non c'è possibilità di andarci perché ci si va solamente a piedi e magari i ponti, che sono i ponti tibetani, sono crollati e quindi ci sono delle difficoltà enormi e questa gente, molto spesso, oltre ad aver perso molti di loro, la vita, le case, eccetera, ha perso anche la roba da mangiare. Prima di procedere però vorrei fare con tutte e tre, poiché avete delle esperienze in campo, avendo visitato, avendo conosciuto, intanto cominciando a dire che mi ha colpito quell'altra notizia che il Nepal sia sprovvisto di un dato censuario, cioè un censimento che è l'elemento principale che determina il numero della popolazione, gli abitanti in questo senso, il punto fermo. Si sa solo delle grandi città come Kathmandu, dice 650 mila circa, 600 mila o poco più, ma dei villaggi, perché stiamo parlando di una popolazione importante, non due milioni, molti di più in questo senso. Quindi partiamo non conoscendo quel territorio, cosa sia il Nepal per la storia dell'umanità, voi che avete fatto la vostra esperienza, cosa ne pensate? Claudio Maneri. La questione sia molto più drammatica di quello che sembra, soprattutto per questi villaggi. La distanza di un villaggio è misurata in giornate di cammino, non in chilometri, questo per dire che ci sono dei posti, stamattina seguivo la CNN, hanno fatto una ripresa, questo villaggio è completamente distrutto, ma ovviamente ci si rende conto che è di difficile accesso per chiunque, nel senso che lì sono abituati loro, come uno di Sherpa, con gli animali a raggiungere questi posti. E lì sta gente non ha più niente, non ha più le case, non ha più da mangiare. A Kathmandu stessa noi abbiamo… Per correttezza, non immaginate voi che siete a casa, direbbe un poeta italiano che è tornato dai lager, che dormite e mangiate, siete al caldo nelle nostre case, che le case siano come le nostre, sono piccole case in legno coperte da queste lamiere, ecco, questo è, non di più. Mattoni, malta, fragilissime. Poi c'è il terrore che ha preso tutta questa gente, io ho l'esperienza diretta di questa scuola che abbiamo costruito in cemento armato, quindi ha retto all'impatto del terremoto, ci sono dentro 130 bambini che vivono sotto tende perché hanno preso una paura totale, le scosse di assestamento continuano e quindi è una situazione dove a questo stato di paura della gente si accomuna la difficoltà di andare a reperire da mangiare, da bere, il costo del cibo è cinque volte tanto, di poca reperibilità, gli aiuti sono, sembra, in grandi magazzini, hanno difficoltà obiettive a riuscire a smistarli proprio per queste difficoltà che ci sono al di fuori della città, quindi è una situazione che temo con qualche zero in più di quello che si teme, per quanto riguarda il morto. Qualcuno si può fare una stima precisa, io credo. Sì, anche perché non si sa, come dicevamo prima, quanti sono effettivamente. Poi si porta tutta a spalla, cioè, che sia chiaro, l'IAC è la spalla della gente, cioè quindi questo è la... Quindi i portatori. I portatori, sì. Giuliano Garroia, viaggiatore, ha fatto una sua esperienza personale, di trekking all'interno, non so, probabilmente partendo da Kathmandu per l'interno. Noi siamo partiti da Kathmandu e tramite un piccolo volo siamo atterrati a Lukla, come tutti, e poi da Lukla ci siamo incamminati, andare a piedi fino ad arrivare al campo base dell'Everest. 5.300 quello? Beh, in realtà noi abbiamo passato anche un passo a 6.200 che era il Chola Pass, si chiama, vicino a Nangboche, Nangboche Bazar, e abbiamo fatto questo passo a 6.200 metri, comunque sì, come diciamo, abbiamo camminato a piedi con questi IAC caricati, noi abbiamo spedito del materiale per conto nostro direttamente là. Si riferiscono a queste immagini? Sì, questo qui è il viaggio, quello lì del 2000, e abbiamo fatto queste scalate, cioè scalate in realtà sono dei trekking d'alta quota, perché definire scalate... Ecco, questo è come vengono portati poi... Sì, sì, ci sono anche adesso dopo delle altre foto sicuramente che si vede, avevamo tutta la roba caricata, avevamo un ufficiale di collegamento che dava lo Stato, insomma, che il Nepal, la regione dava, che veniva con noi, e abbiamo fatto questo percorso, ecco, questi sono i nostri animali caricati con tutte le nostre attrezzature che servivano, dovevamo scalare una vetta, fare una piccola montagna, e quindi abbiamo fatto questa cosa qui, questa esperienza. Sicuramente là è tutto quanto sempre basato sul piedi, cioè si cammina, non è che c'è tanto da fare, si è sempre fuori all'aria aperta, la mattina alle 8 esci fuori dalla tenda e sei così, noi poi ci eravamo attrezzati molto bene, cioè avevamo portato il parmigiano, avevamo portato la nutella, le piedine fatte, perché... Sì, sì, perché il problema è questo, star via 20 giorni, 25 giorni... Ecco qua la piramide, chiedo su la piramide, no? Del PNR? Sì, questa è la piramide. Siamo stati lì, noi in realtà siamo andati dentro da turisti, insomma, l'abbiamo vissuta da turisti, lasciati a visitare un attimo. Sì, perché questo aspetto, dopo torniamo agli aspetti più politici, sì, sicuramente. Senatore. Che cosa significhi per il Nepal questa perdita di turismo, che è il turismo escursionistico per i prossimi anni? Campano su quello. Campano su quello, eh? In realtà io poi ritengo che alla fine, cioè là non c'era niente prima, cioè nel senso, ok, a parte i danni alle persone, danni alle strutture, eccetera, però probabilmente il turismo c'è caso che possa poi anche proseguire. Eh sì, ma in queste condizioni, secondo lei, chi va a Kathmandu adesso? Ah no, Kathmandu no, Kathmandu è un altro, cioè è un problema diverso. Ah ma devi acerare a Kathmandu per andare a fare scalare. Io tra l'altro ho sentito dire di recente che a Kathmandu non... Adesso c'erano degli aerei che tornavano indietro, cioè non c'era la logistica, cioè non riuscivano ad avere lo spazio sufficiente per la gestione di tutti questi aerei cargo che le varie nazioni stanno mandando con tutte le attrezzature. Quindi il problema è quello lì. Ah, è chiaro che è quello finché non lo sistemano. Senatore, un'altra sorpresa che ho avuto, abbiamo preso tutti noi dai media, è stata questa accusa dei nepalesi. Io in particolare ne ricordo una di uno che vive in America, un grande trader, un altro che ha fatto fortuna nel campo della finanza e quello che hanno dichiarato i nepalesi che hanno costruito lo stand del Nepal all'Expo di Milano. Qui si dice che grandissime colpe del governo, del primo presidente della Repubblica che è stato, che si è sostituito il passaggio dalla monarchia alla Repubblica, un governo che non esiste, la funzionalità che non c'è. Cosa ne pensa lei? Cosa ne pensate voi? È sempre stato un paese, diciamo così, non si può parlare di democrazia, ma comunque di difficile gestione del potere. Il re precedente, ricordiamolo tutti, era accusato, chissà se era vero, ma 14 suoi familiari erano stati ammazzati e una delle accuse che si lanciava era Neroni e Caligro facevano ridere il proposito. Che li avesse fatti fuori lui, insomma io non so se questo è vero, le indagini non hanno mai portato a niente, ma ci fu una drammatica sostituzione del comando. Il re precedente era quello che aveva consentito appunto la costruzione della piramide, era un re, diciamo così, considerato un democratico quello che c'era prima. Poi c'è stata tutta la vicenda, ricordiamo anche quella dei cosiddetti cinesi, cinesi cioè erano il partito comunista nepalese che aveva aperto un conflitto molto forte all'interno del Nepal, anche con un conflitto anche armato e poi dopo ci furono delle elezioni, si misero d'accordo, cose che non si riescono a capire mai, lì è un paese quello che è sotto il fortissimo flusso della Cina. Mi è stato riferito le repubbliche senza costituzioni, mi dicono, non so se si è vero. Lì è il re tutto e poi dopo quando il re viene sostituito da un presidente che chissà come gestisce le cose, lì veramente è difficile, ma poi quello che è importante è che un paese è sotto il tallone della Cina. Ecco, questo è l'altro termine che vorrei a voi affidare. I primi soccorsi cospicui sono stati da una parte dell'India e dall'altra parte della Cina. È lo Stato cuscinetto. È lo Stato cuscinetto. Cosa può capitare? Beh, adesso questo è difficile ipotizzare. Azzardiamo, lei, in una visione geopolitica, la fine di questa ripresa, perché il primo avvo dovrà essere... Lì, tutta la zona che è di confine tra il Pakistan, l'India, la Cina, sto pensando al lato occidentale, i paesi della catena himalayana. Ci sono conflitti in corso, conflitti che sono per il momento diciamo così fermi, bloccati, ma c'è moltissime zone nelle quali non puoi andare perché sono luoghi preclusi, sono luoghi di guerra, diciamo così. Tutto il Lada è pieno di... Insomma, è un deposito di esercito, insomma, ci sono camioni, caramani... C'è la logistica... C'è la logistica, e in fondo c'è la Cina e in fondo c'è il Pakistan. Quindi questa è la situazione. Nel Nepal c'è questa forte presenza dei cinesi, insomma, c'è questo forte... E quindi la Cina... L'India, logicamente, non mica vuole accettare questo stato di cose perché, insomma, questi sarebbero di qua dall'Himalaya, no? Perché adesso, nel frattempo, l'Himalaya è così. Noi l'abbiamo visto, io ho ricordato che io più volte mi sono recato in Ladakh per questioni, diciamo così, umanitarie. Quello era uno dei posti attraverso i quali i tibetani passavano l'Himalaya e arrivavano in Nepal e di lì venivano poi convogliati in India, eccetera, e salvati. Adesso questa cosa non accade più perché quelli lì vengono venduti, diciamo, sarebbero venduti immediatamente passato il confine, cioè li avrebbero traditi. quindi la situazione è complessa, è complicata e d'altronde ricordiamo che quella è povera gente, ha bisogno assolutamente di tutto e quindi però c'è una faccenda che noi dovremmo ricordarci tutti. Nel nostro cimitero qui di Forlì, ecco, volevo arrivare a quello, mi scusi, volevo proprio dire questo per arrivare alla nostra sensibilità deve essere tale per cui noi dobbiamo non dimenticare intanto Nepal come l'India Inghilterra perché come sapete colonia inglese Commonwealth era questo. I soldati nepalesi famosi in tutto il mondo, il corpo di Gurka famosi in tutto il mondo perché conoscenti dalla montagna perché erano incorporati nel terzo corpo d'armata se non sbaglio che operò qui e a lei la parola operò qui. No, qui nel nostro cimitero noi abbiamo il cimitero degli indiani all'interno del cimitero degli indiani ci sono diverse etnie che combattevano diciamo il nome per conto dell'esercito inglese e se voi andate trovate moltissimi nomi moltissime steli con i nomi di questi Gurka che sono una popolazione nepalese è una popolazione molto bellicosa molto guerriera molto tenace che incuteva anche molto timore nelle file dei nemici ecco loro sono un'etnia del Nepal così come ci sono altre etnie gli Sherpa sono un'etnia del Nepal noi tutti pensiamo che siano quelli che portano i pesi sono portatori però sono specializzati loro sono quelli che vanno davanti poi i portatori sono invece le categorie le classi più povere dei nepalesi quelle che vanno su mentre noi abbiamo gli scarponi loro vanno su con l'infradito è vero Giuliano beh accoso adesso mi metti il paesino arrivò la prima lavatrice nel 2000 portata a spalla portata a spalla da una persona quando eravamo noi là nel 2000 arrivò la prima lavatrice portata a spalla per un cammino di un paio di giorni perché tutto come diceva Claudio viene misurato in giornate di cammino quindi voi potete immaginare perché questo io faccio un piccolo esercizio un piccolo sforzo di capire quelle vallate laterali strettissime dove il sole arriva sì e no e cosa è capitato in fondo a quelle valli anche poi perché non ci sono neanche i posti per vare a tirare gli elicotteri ecco questo è l'altro punto e fra l'altro il Nepal è un paese che ha pochissimi mezzi che possono volare e la roba che c'è è roba anche vecchia ho letto l'altro giorno un'intervista di un elicotterista delle nostre parti che aveva investito in un elicottero lassù e non ci sono non ci sono proprio i mezzi per portarli e io ho visto adesso ho visto che hanno inviato degli aerei ma gli aerei non è che si infilano nelle valli non è che possono fare tanta attività perché lì le valli sono molto strette le pendici sono molto ripide le coltivazioni sono tutte a terrazzo tanto per dire è giusto per capirci quindi la situazione è geograficamente molto complicata geografica molto complicata e quindi la situazione è veramente è veramente difficile ricordiamoci che sta per iniziare il monsone periodo dei monsone e vuoi dire che è più off sempre quelle sono le vallate strette che si incuneano guardate e anche le abitazioni che sono proprio a terrazza ma questo è un grosso c'è abitazione Nance Bazar è un posto diciamo così appunto dove c'è una importante attività di commercio dopo l'Ukla che è quel posto dove c'è questo aeroporto aeroporto alla pista è lunga 300 pista di atterraggio 300 metri no no è fatta così e poi fa così una porta aerei tu arrivi con la porta aerei e quindi quando sei lì fai la tua preghiera sarà la volta buona l'anno scorso non l'anno scorso l'anno prima un aereo è appunto caduto tentando di atterrare sì perché è particolare come pista cioè la pista è proprio fa conto una schiena quindi lei quando tu arrivi devi andare in salita per frenare e quando parti parti dalla salita e vai e poi dopo c'è lo strapiombo e speri e speri trampolino di lancio trampolino di lancio gli aerei naturalmente sono aerei molto piccoli poi sono vecchi qui gioca proprio il ruolo di Cina e India che sembra che abbiano mandato elicotteri sì beh gli elicotteri sono fondamentali adesso la cosa che è stata brutta io ho visto Messner che si è arrabbiato e ha protestato perché tutti andavano a salvare a occuparsi dei purtroppo anche loro hanno avuto delle perdite gravi eccetera eccetera degli scalatori che erano sull'Imalaya lì è stato drammatico ma Messner ha detto no quelli sanno farle arrangiarsi da solo quelli sanno farle arrangiarsi ci sono e lui ha detto ci sono delle persone colpite dal CO di serie A e di serie B e aveva ragione ha suscitato un po' di polemiche questa cosa logicamente però bisogna rendersi conto che quella è tutta gente che se va su a 8000 metri sa fare se si è riuscito a salvare sa fare a togliere il picco la mattina di un terzo dei feriti con lesioni spinali quindi stanno cercando per la riabilitazione c'è un disastro per le condizioni della gente perché sotto questi pesi hanno avuto problemi mi concludo vorrei con voi affrontare con la vostra esperienza la vostra presenza che avete fatto nel passato secondo voi adesso come tentare piano piano di ricostruire un minimo di regole un minimo di civiltà un minimo di coesistenza all'interno del Nepal dal vostro punto di vista anche perché è vero la civiltà ce l'hanno dovremmo affrontare anche l'accaduta di tanti templi l'importanza della religione siamo in presenza se non sbaglio di induisti da una parte e buddisti sono le due religioni importanti ecco qua guardate questa è la famosa torre questo è lo stupa no no lo stupa è uno stupa sì questo è un grandissimo stupa attorno al quale si gira in continuazione questo è Katmandu a Katmandu vicino alla scuola che abbiamo nel quartiere tibetano esatto e ci sono le persone che girano si stendono perché c'è un modo molto particolare per camminare mettono avanti le mani con due pezzi di legno se no se le rovinerebbero si stendono e poi risalgono si stengono come se fosse una sorta di lombrico che hai capito che si intrava avanti alle tre di notte alle quattro del mattino perché ci sono tutti non ci sono i turisti ci sono i tibetani che girano l'importanza l'importanza della religione dei monasteri per questo popolo e anche per la ricostruzione è fondamentale fondamentale anche perché poi sicuramente diciamo i loro monaci saranno un punto di riferimento molto importante io ho visto il Dalai Lama già dare indicazioni a questo proposito pochissimi subito appena è successo questa faccenda quindi loro sicuramente sono un punto di riferimento molto molto importante in Lada che almeno quelli tibetani o quelli hinduisti li conosco un pochino meno quindi non vorrei dire una qualche patacata cosa che mi è consueta ma patacate in romanolo significa qualcosa di interessante sì no però diciamo ho detto una patacchia sì no io ho assistito a insomma a vicende anche molto anche crude non so sono stati morti e roba del genere e il ruolo importantissimo dei religiosi della religione dei monaci il fatto adesso per esempio sono una classe una classe dominante una classe medio alta un ceto lì lo rappresentano ancora come in Tibet peraltro sì però vivono in povertà quindi non è che non è che staglia proprio beh ce n'è qualcuno magari sì come qui insomma no lì è una vita molto povera molto grama molto difficile Giuliano adesso turisti viaggiatori turisti viaggiatori avventure nel mondo avventure nel mondo partiranno piano piano mi viene da dire ci si farà da qualche parte magari diventa anche una lezione perché io credo che quelle montagne siano sacre molte volte sono state rispettate lì è una pattumiera sono state violate io veramente ho visto dei filmati impressionanti rispetto ci vuole rispetto è la madre terra che secondo me ha voluto dare un segnale serio io sono su questo cioè la condivido la condivido va benissimo dire se d'ora in avanti sarà rispettata ah no quello è molto difficile veloce che stiamo concludendo tutto quello che non è proprio distrutto delle spedizioni vanno su e raccolgono e poi dopo le mettono in vendita ma si lo mettono in vendita dei ricordi i gadget solo che purtroppo là ci sono scatolette c'è rifiuti c'è tutta la schifezza di migliaia di migliaia e migliaia di persone che abbandonano lì quindi quella perché ormai anche la scalata alle montagne agli 8000 è diventato un fatto di natura commerciale non è più l'appassionato ti portano su anche te 50.000 euro 100.000 euro se vuoi andare sull'Evers andiamo però preferirei andare da solo ma vista l'età probabilmente non mi conviene ma portano su della gente guarda che terribile questo fatto bene io volevo con il vostro contributo dare un'impressione ulteriore però siete con me precettati perché vorremmo realizzare un ping pong con voi e con altre persone perché il desiderio è di capire perché il Nepal è una parte di questo nostro mondo se volete perché è incuneato come abbiamo detto in maniera geografica e politica lì però il futuro ci fa capire a tutta la tua generazione adesso è un pochino meno giovane della mia che andava là perché questo era il posto dove si pensava che si potesse incontrare quello che faceva stare meglio insomma cioè qualcosa che era più vicino a Dio vuol dire questo non lo so però partivano partivano Giuliano come scusi perché lo sa come il mio desiderio quando io non vado oltre Caponordo per me è una tappa e forse è una tappa a chi va a Ushuaia beh no sicuramente a Ushuaia a chi va eccetera pur in condizioni che sono quelle rinunciabili lui le ha provate tutte io ancora devo vivere perché le voglio provare ringrazio fai la domanda faccio la domanda a padre eterno sì l'ho già pronta Manieri e quindi vogliamo approfondire anche attraverso un ulteriore ping pong grazie ciao a tutti grazie